Musica Cupola 2.0 all'indomani della maxi operazione, nuovi elementi e il ritorno della vecchia mafia. Il leader di Confindustria Nazionale a Palermo, tema trainante, turismo e infrastrutture. 25 milioni per gli Atenei siciliani, la regione corre ai ripari e chiede aiuto all'Unione Europea. Taglia il trasporto pubblico, il governo regionale ci ripensa e fa marcia indietro. Servi a tutti e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento dell'informazione su Video Sicilia. Riapriamo il nostro telegiornale con l'operazione antimafia Cupola 2.0 messa a punto ieri a Palermo. L'operazione avrebbe decapitato il vertice riorganizzativo di Cosa Nostra portando in cella oltre 46 tra boss e gregari e il nuovo capo dei capi, nonché erede fedelissimo di Totò Rina, ovvero Settimo Mineo. I particolari e i nomi dei boss finiti in manette nel servizio. Con l'operazione antimafia Cupola 2.0 messa a punto ieri in terra palermitana, si ritorna a parlare di una mafia d'altri tempi con rigide regole da rispettare e diktat che tanto piacevano. Buscette, Totò Reine, Settimo Mineo, l'erede del capo dei capi, spodestato sul nascere ed il cui ruolo avrebbe dovuto riorganizzare con parti malabitosi di Cosa Nostra. L'inchiesta ha portato a termine dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo che ha portato al fermo 46 persone tra boss, gregari e destortori e ha svelato il nome e il profilo proprio dell'anziano padrino Mineo, gioielliere di professione ma di fatto uomo d'onore e di fiducia della famiglia tanto da prendere le regine di una mafia appunto che non ammette sgarri come quello di relazioni extraconiugali da parte dei boss e torna dunque con l'ideale arcaico, obsoleto, forse ma mai tramontato della punciuta la persona che deve essere iniziata all'interno della cosca e viene condotta in una stanza alla presenza di tutti i componenti della famiglia, dellì la puntura dell'indice su gello di appartenenza indiscussa alla famiglia stessa e ancora vengono fuori gli obblighi da rispettare tra i comandamenti non desiderare appunto la donna di altri uomini d'onore non rubare agli altri affiliati, non sfruttare la prostituzione non uccidere altri uomini d'onore salvo in caso di assoluta necessità evitare la delazione alla polizia, mantenere con gli estrani il silenzio assoluto su Cosa Nostra ma l'operazione di ieri oltre a decapitare il vertice di Cosa Nostra, Palermitana con Settimo Mineo ha anche portato in cella Gregorio Di Giovanni, capo del mandamento di Porta Nuova Filippo Salvatore Bisconti, capo del mandamento di Misilmeri, Melmonte Mezzagno Francesco Colletti, capo del mandamento di Villabate e poi una valanga di nomi e volti che vogliamo elencare tutti aderenti a vario titolo, ai mandamenti di Misilmeri, Porta Nuova, Pagliarelli, Corso Calatafimi Roccamezzo, Monreale, Polizia Generosa e Villabate si tratta di Stefano Albanese, Giusto Amodeo, Filippo Annatelli, Gioacchino Badagliacca Giuseppe Bonanno, Giovanni Vangemi, Francesco Caponetto, Giuseppe Costa, Crino, Rosalba Crino Filippo Cusimano, Rubens D'Agostino, Di Giovanni Giuseppe, Gregorio Di Pisa Andrea Ferrante, Francesco Fumuso, Vincenzo Gangi, Michele Grasso La Barbera, Marco Larrosa, Ghetanoleto, Michele Madonia, Matteo Maniscalco, Luigi Marini Pietro Merendino, Fabio Messicati, Vitale, Giovanni Salvatore Migliore Rosolino Mirabella, Salvatore Mirino, Massimo Mulè, Domenico Nocilla Nicolo Orlando, Salvatore Pispicia, Gaspare Rizzuto, Rubino Michele, Salerno Giovanni Scafidi, Salvatore Sciarabba, Salvatore Sorrentino, Giusto Soccato, Vincenzo Soccato e Salvatore Troia Sono tre i ricercati sfuggiti ai fermi nel corso dell'operazione Cupola 2.0 Sono Stefano Polizzi di 63 anni, Giusto Francesco Mangiapane di 42 anni e Carlo Noto di 52 anni Resisi irreperibili Il primo è ritenuto il capo della famiglia di Bolognetta all'interno del mendamento mafioso di Misilmeri Belmonte Mezzagno Mangiapane è nato a Ciminna e residente a Villa Frati avrebbe preso parte alle estorsioni Anche lui legato al mandamento di Misilmeri Belmonte Mezzagno Carlo Noto invece abita a Misilmeri Gli investigatori lo considerano un affiliato della famiglia per il quale si sarebbe messo a disposizione Noto infine si sarebbe anche occupato della trasmissione dei pizzini dal capo mafia a coloro che facevano parte del clan Allarme del segretario generale della polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo che all'indomani della cattura di Settimo Mineo teme una nuova lotta alla successione delle carceri e ancora un eccessiva mole di lavori rispetto all'organico presente nei 13 istituti penitenziari Il sindacato di polizia penitenziaria con un documento a firma del segretario generale Aldo Di Giacomo manifesta la preoccupazione per un'eventuale guerra di successione nelle carceri dopo l'arresto di Settimo Mineo considerato l'erede di Totorriina L'arresto di Settimino Mineo considerato il nuovo capo di Cosa Nostra insieme ad altre 46 persone scrive il sindacato è destinato a riaccendere nelle carceri in particolare nei 13 istituti penitenziari dove sono reclusi 740 detenuti per reati di criminalità organizzate e terrorismo in regime di carcere duro 41 bis la lotta alla successione Il segretario generale del sindacato polizia penitenziaria evidenzia che non è un caso che dopo la morte del boss Totorriina Mineo è stato designato al vertice della commissione mandamentale di Cosa Nostra solo dopo aver ottenuto il benestare dei mafiosi in carcere in più bisogna aspettarsi un infittirsi di pizzini per dare indicazione ai clan su chi adesso deve divenire il nuovo boss dei boss che stavolta non è escluso possa essere una donna con la morte di Riina i capi hanno sentito l'esigenza di rivedersi ripristinare le regole e di riprendere i contatti con l'andrangheta sia in ambiti illegali come gli stupefacenti ma anche per settori legali come il traffico di rifiuti e se la nomina di Mineo ha spostato il suo baricentro verso la città di Palermo a differenza di quanto questo era in mano ai corleonesi i nuovi arresti, prosegui di Giacomo determinano un carico di lavoro per il personale di polizia penitenziaria ampiamente sotto organico in tutti gli istituti di pena e ulteriori situazioni di stress non vorremmo che gli arresti servano esclusivamente a tacitare le coscienze di chi ha responsabilità dell'ordine pubblico fuori e dentro le carceri per accreditare una situazione che è tutt'altro che rassicurante sarebbe decisamente negativo pensare di aver sradicato completamente la mafia perché la cupola non tarderà a rigenerarsi è proprio da quanti sono sottoposti al 41 bis che bisogna aspettarsi i pizzini di ordine ai clan del mandamento di Corleone aggiunge il sindacalista per riprendersi la supremazia sui palermitani e per indicare da subito i reggenti provvisori e in tempi medi a fermare la supremazia del nuovo boss e dei boss inoltre non bisogna dimenticare che stanno tornando in libertà decine e decine di vecchi capi mafia che potranno continuare a operare per il segretario generale dell'SPP serve intensificare la vigilanza specie nei 13 istituti del 41 bis sia per prevenire l'attenzione nelle carceri e ritorniamo nuovamente alla cronaca davanti al gruppo di Palermo i 37 indagati per mafia dell'operazione talee hanno chiesto di essere processati con rito abbreviato si tratta di boss e affiliati dei mendamenti mafiosi di Resuttana, San Lorenzo e Tommaso Natale arrestati all'inizio di dicembre dello scorso anno fra gli imputati anche Mariangela Di Trapani moglie di Salvino Madonia boss condannato all'ergassolo anche per l'omicidio dell'imprenditore Libero Grassi e Giuseppe Biondino figlio dell'autista di Totorrina a Biondino venne data la regenza del mandamento gli furono dati il libro mastro delle estorsioni e il mandato a comandare una delle zone più ricche di Palermo il giudice per l'udienza preliminare deciderà nella prossima udienza se ammettere agli indagati a rito alternativo lo apprendiamo da Repubblica Tappa palermitana per il leader di Confindustria Nazionale Vincenzo Boccia tema trainante il turismo e le infrastrutture per la crescita della Sicilia Boccia anche dal capoluogo isolano non è voluto mancare all'appuntamento di criticare fortemente la manovra del governo nazionale vediamo i dettagli accompagnato dal ministro per le politiche agricole alimentari e forestali del turismo Gianmarco Centinaio si è conclusa ieri la visita nel capoluogo palermitano del presidente di Confindustria Nazionale Vincenzo Boccia una visita presso la sede di Sicindustria a mente come tema infrastrutture e turismo per la crescita della Sicilia a dare il benvenuto il presidente di Sicindustria Alessandro Albanese il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando l'assessore regionale dell'istruzione e formazione Roberto Lagalla il presidente di Federturismo Sicindustria Giuseppe Cassarà il direttore generale di Federturismo Confindustria Antonio Barreca quello di Confindustria Alberghi Giorgio Palmucci nonché i vertici e le rappresentanze delle nuove Confindustria territoriali siciliane un Vincenzo Boccia fortemente critico col governo di contratto a colorito giallo verde che è voluto ritornare anche dal capoluogo isolano su quanto dichiarato alcune ore precedenti in merito alla manovra nazionale chiedendo al premier Conte di correggere la finanziaria in mancanza di tale atto di rassegnare le dimissioni proseguendo anche affermato di credere sulle tre linee direttrici ossia TAV, infrastrutture grandi e piccole, nonché la crescita la situazione è delicata, speriamo che questo governo recuperi buonsenso e pragmatismo e oltre ai fini elettoralistici del contratto di governo si ponga i fini di crescita che sono fini di interesse nazionale intanto non si dovrebbe discutere e dibattere su cantieri da chiudere secondo è nell'interesse di questo governo accelerare sulla crescita accelerare sulla crescita significa innanzitutto far partire e decollare tutti i cantieri possibili delle infrastrutture del paese terzo questo governo deve chiedersi quale visione ha del paese non è chiaro, l'Italia deve diventare un grande hub e per farlo deve investire in infrastrutture il leader di Confindustria Nazionale ha anche parlato di sogno di un'Italia centrale tra Europa e Mediterraneo, aperta ad est e ovest avendo come fattore determinante una dotazione infrastrutturale parole sintetizzate dal presidente di Sicindustria Albanese con la frase il modello di sviluppo della Sicilia non può prescindere dalle infrastrutture entrambi hanno anche parlato di come la Sicilia possa vivere di turismo 11 mesi all'anno avendo anche delle potenzialità inespresse e dare quelle risposte verso il mare, la montagna, l'eono gastronomia la cultura e la storia, elementi che il turismo italiano e internazionale richiedono e attendono continuando il ministro Gianmarco Centinaio ha altresì parlato della necessità di fare sistema e spendere bene i fondi europei concludendo col dire che le opportunità ci possono essere e adesso cambiamo pagina il governo regionale fa dietro fronte sui tagli al trasporto pubblico locale vediamo tutti i dettagli intesa trastra Sicilia l'associazione che riunisce le aziende pubbliche e private che opera nel TPL e la regione per non dar luogo ai temuti tagli e la regione siciliana a trasporto pubblico locale come apprendiamo dai colleghi del locale news l'assessore regionale trasporti Marco Falcone ne ha dato notizia e rassicurazione nel corso dell'assemblea il comitato direttivo Astra che si è tenuta a Catania quindi la giunta regionale ha bannato l'intenzione di cancellare il previsto taglio per il 2018 nei prossimi giorni un provvedimento analogo sarà approvato per i trasferimenti previsti nel 2019 e 2020 in sintese in pratica le aziende di trasporto pubblico locale potranno contare sui contributi fino ad ora percepiti nessun cambio quindi rispetto al passato complessivamente il trasporto pubblico locale cioè gli autobus costano per la quota riguardante la regione siciliana 160 milioni di euro l'anno la pressione di Astra e dei sindagati di categoria confederale autonomi hanno portato al dietrofondo della regione siciliana un ingente danno evitato perché il taglio della regione avrebbe potuto causare tagli di corsia e riduzione del personale nelle aziende c'è da sottolineare che il taglio previsto dalla regione siciliana era in controtendenza rispetto al resto d'Italia dopo la stabilizzazione del Fondo Nazionale Trasporti da parte del Governo nazionale nessuna regione è mai intervenuta per ridurre le risorse ai trasporti pubblici in provincia di Trapani per esempio ATM Trapani S.p.a. aveva anche preannunciato azioni contro la regione siciliana nell'ipotesi che i tagli fossero stati confermati minori contributi per circa un milione di euro nel 2018-2020 l'ipotizzato taglio infatti avrebbe inciso per il 15% nel 2018 con ulteriore 11% nel 2019-2020 e continuiamo a parlare di regione oltre 25 milioni di euro destinati agli atenei siciliani al fine di erogare borse di studio per gli studenti la cifra non presenterebbe variazioni per eccesso rispetto allo scorso anno e la regione chiede già aiuto all'Unione Europea Arrivano dal Ministero dell'Istruzione 25.934.000 euro per le borse di studio universitarie destinate ai giovani studenti siciliani lo apprendiamo dal quotidiano di Sicilia in termini di zeri dopo le cifre parrebbe non esserci nessun incremento rispetto all'anno precedente ma l'Ateneo di Catania ad esempio chiede già alla regione di poter usufruire dei fondi europei per garantire un numero maggiore di borse di studio ai suoi ragazzi sono più di 237 milioni di euro stanziati per le borse di studio universitarie su tutto il territorio nazionale come da intesa Stato o Regioni sul Fondo Integrativo Statale 2018 dai mesi il Ministro dell'Istruzione Marco Busetti richiama l'attenzione sulla necessità della sua proposta di riforma tuttavia nonostante le vane speranze riposte sulle dichiarazioni del Ministro Di Maio che nelle scorse settimane esprimeva la sua vicinanza alle manifestazioni studentesche l'importanza del diritto allo studio e fondi destinati all'isola per l'assegnazione proprio delle borse di studio agli studenti universitari risulta conforme a quella dell'anno scorso i fondi saranno così ripartiti circa 11 milioni saranno inviati all'Università di Palermo 9 milioni all'Università di Catania mentre la restante parte della somma verrà divisa tra le province di Messina ed Enna il capoluogo di Regione sembra avere un grado di povertà maggiore per questo potersi accaparrare una percentuale superiore ma il diritto allo studio potrebbe ricevere finanziamenti anche dall'Unione Europea il Presidente dell'Eroso attende a risposta dalla Regione Siciliana in merito alla sua richiesta di usufruire dei fondi europei e poter incrementare il numero delle borse di studio a favore degli studenti e per la nostra rubrica di salute sentiamo il Ministro Giulia Grillo sul nuovo Consiglio Superiore di Sanità e le nuove nomine selezionate in base al curriculum che avverranno a gennaio I membri del nuovo Consiglio Superiore di Sanità saranno scelti in base al curriculum ad annunciarlo è il Ministro della Salute Giulia Grillo ospite al Palazzo dell'Informazione a DN Cronos le nuove nomine sono attese per gennaio i componenti del Consiglio Superiore di Sanità che con questo organo consultivo tecnico scientifico del Ministero devono essere tutte persone con un elevato standard curricolare e quindi verranno selezionati andando a cercare dentro cosa che farò insieme al mio staff dentro le università o comunque nelle realtà territoriali italiane figure che corrispondono a questi criteri sicuramente gli uscenti avevano tutti queste qualità quindi non è un azzeramento che deriva da non riconoscere la professionalità dei componenti che erano stati nominati dal precedente Ministro ma è anche un segnale che vogliamo dare un segnale di cambiamento che comunque come sapete io ho dato su tutti gli organi e o commissioni che fanno parte del Ministero quindi un rinnovamento totale per dare spazio ad altre figure che in questo paese certamente ci sono quindi faremo una selezione sempre meritoria sulla base del curriculum e oggi alle 22 manderemo in onda l'intera intervista al Ministro Grillo che ha parlato oltre che delle nomine del CSS anche del bonus bebè e di altri argomenti Altro comunicato a quello pervenuto ci stamane questa volta sulla lotta all'evasione fiscale solo tre comuni su 24 in provincia di Trapani hanno partecipato nel 2017 al premio statale per la compartecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale e contributiva secondo il quale le cifre recuperate restano al 100% nelle casse municipali a riverarlo è uno studio della UIL Servizio Politiche Territoriali dallo studio si evince che in provincia di Trapani hanno aderito soltanto ai comuni di Marsala Alcamo e Salemi per un totale vaso recuperato di 60.390 euro in particolare Alcamo da 706.069 euro è passato a 1.297.000 euro circa il segretario generale della UIL Trapani Eugenio Tumbarello pertanto rivolge un appello alle amministrazioni comunali trapanesi un dovuto applauso prima di tutto è da rivolgere alle amministrazioni municipali di Marsala Alcamo e Salemi dice Tumbarello che non solo hanno aderito al progetto statale ma sono anche stato in grado di migliorare il proprio risultato rivolgendomi poi ai restanti 21 comuni desidero dire che è possibile fare tanto nella lotta all'evasione fiscale grazie a uno strumento che da un lato permette di recuperare risorse da impiegare in servizi alla cittadinanza e di abbassare le tasse locali dall'altro permette di dare proprio contributo alla lotta all'evasione fiscale e contributiva a confine ultimo di una maggiore equità e giustizia sociale nascita in calo in Sicilia il decremento si sarebbe registrato giusto nell'ultimo decennio vediamo tutti i dettagli la Sicilia non è un'isola per neonati negli ultimi dieci anni dal 2007 al 2017 le nascite sono diminuite del 16% quasi 8.000 in meno a Palermo non si superano i 6.000 parti all'anno non era mai accaduto e mezzo secolo di storia e l'ultimo rapporto della crisi demografica contenuto nel dossier dell'Istat pubblicato in questi giorni ma la previsione sul medio e lungo periodo è peggiore rispetto al resto del Paese dove nei prossimi 20 anni si prevede una ripresa se oggi in Sicilia per ogni neonato ci sono più di 7 ultraottantenni fra 10 anni gli over 80 diventeranno 12 secondo alcuni studi forniti dall'Università dei Scienze della Formazione di Palermo è l'incertezza sul futuro colpa della mancanza del lavoro che vede la Sicilia in vetta alle classifiche della disoccupazione giovanile il 40% e femminile il 29% ma anche di un welfare inadeguato per sostenere le giovani coppie in Sicilia ad esempio non fa più figlio il ceto medio che vive in maniera più angosciosa l'incertezza del futuro ed ha timore di investire sui figli spiega il rapporto dell'Università in Sicilia più difficile che altrove per la carenza di strutture e servizi educativi dedicate alla prima infanzia solo un bambino su 10 sotto i 3 anni trova posto in un asilo nido pubblico una percentuale lontana dalla media nazionale per non parlare del tempo pieno a scuola praticamente inesistente appena il 9,7% di pagare scuole private babysitter attività pomeridiane eppure anche chi ha un lavoro ce l'ha oggi ha difficoltà a programmare una gravidanza sono tantissime le siciliane che si rivolgono agli sportelli delle associazioni di volontariato per denunciare che la prima cosa che viene chiesta durante i colloqui di lavoro è se si è sposati e se si ha intenzione di fare figli il risultato è che le culle dei reparti maternità restano sempre vuote come le aula degli istituti scolastici quest'anno sono 15.000 le sedie rimaste libere rispetto all'anno precedente 4.000 solo nella scuola di infanzia in compenso nei prossimi 20 anni aumenterà la domanda dei posti nei reparti di geriatria e nei centri di residenza per anziani e case di riposo e adesso cambiamo argomento durante la giornata dell'albero del 21 novembre scorso grazie alla collaborazione del corpo forestale dello Stato e la donazione dei club service sono state piantumate svariate tipologie di alberi grazie alla donazione del Lions Club e del Rotary Club di Alcamo sono state piantumate rispettivamente 40 palme e 5 cipressi purtroppo dichiara l'assessore Alverde Stefano Alessandra abbiamo già preso e constatato il furto di circa 20 palme in via Calabria fortunatamente le telecamere della videosorveglianza hanno ripreso i malfattori che speriamo siano puniti nel più breve tempo possibile per il gesto incivile 110 anni da allora Messina non può dimenticare ecco che riaffiora il triste ricordo del sisma del 1908 L'amministrazione comunale di Messina ha presentato l'iniziativa 1908-2018 a 110 anni dal sisma di Messina mantenere viva la memoria storica di quel tragico giorno in cui morirono migliaia di persone l'obiettivo è anche quello di contribuire ad affermare una maggiore consapevolezza dei rischi territoriali Messina ha cercato di reagire a questo catastrofico evento che l'ha colpita nel 1908 la protezione civile ha sempre attenzionato tutta una serie di situazioni che si sono ripetute nel tempo e per questo oggi siamo arrivati nelle condizioni di avere già un piano comunale di protezione civile al passo con i tempi e che tende a rassicurare la cittadinanza la memoria è fondamentale proprio per non dimenticare quello che è stato e ciò rappresenta adesso oggi quello che siamo e quello che rappresenteremo in futuro naturalmente è chiaro che bisogna cercare di unire tutte quelle risorse che sino ad oggi hanno sempre ricordato con il loro singolo evento la catastrofe del 1908 una raccolta di fondi per la protezione civile per l'acquisto di beni di prima emergenza confermare nella popolazione il ricordo della memoria storica che non va dimenticata di quella messina splendida che era unitamente a quello che è l'attività di protezione civile che così come nel 1908 fu importantissima e diede le basi a quella che è la protezione civile di oggi a tutt'oggi ancora deve fare molti passi avanti per la sicurezza totale della popolazione in caso di eventi calamitosi come questo